Dottori, buongiorno! Mamma mia, quant'è che non registravo un video YouTube? Uh, almeno, 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 almeno qualche giorno. Come stiamo? Oggi torniamo a parlare un po' di produttività. Sapete che ormai mi sto dividendo in queste due categorie, Bitcoin e Productivity. E quindi ho detto, ma perché non consigliare ai miei amici dieci metodi per aumentare la produttività, per essere un po' più efficienti, eh? Così poi potete fare una vita come la mia, fatta di sofferenze, dolori, problemi, ansie, frustrazioni, paranoie, ma anche di scrocco di cose, di una persona che si è licenziata, di una persona che sta facendo tutto il suo viaggio. E quindi, insomma, oggi andremo a scoprire dieci chicchettine, dieci trucchettini per migliorare la propria produttività in maniera easy, ma soprattutto pratica. Andiamo a vedere cose tangibili da toccare con mano. Per chi ancora non mi conoscesse, sono Marco Costanza, un ragazzo che, continuo a dire un anno fa, perché alla fine adesso un anno, un mese fa, mi sono licenziato dall'ambito posto fisso statale. Mannaggia a me, no, ho fatto bene, ho fatto bene, perché adesso ho preso un po' così il controllo del mio tempo e della mia vita e faccio questo di lavoro, faccio il cretino sui social, divulgo, divulgo roba finanziaria, prettamente bitcoin, soprattutto in questa fase qua, e sono un malato di produttività. E quindi ho detto, cioè, sto video lo devo fare io. Tra l'altro, tra l'altro, ho anche lanciato il mio template di Notion, ma te lo scillo dopo, dopo ti faccio la marchettata bella, te lo piazzo lì, se vuoi acquistarlo, ti faccio un po' vedere come funziona, tutte cose, ma ne parliamo dopo. E quindi nulla, spero, insomma, che ti troverai bene in questo canale e che passi dei bei momenti insieme, ma perdiamoci tutte queste chiacchiere ogni cazzo di volta. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, partiamo subito con i primi punti per migliorare la produttività. Allora, la primissima cosa, e mi viene da sé, che mi devi fare una to-do list. Crea un elenco giornaliero di cose da fare per tenere traccia delle attività, ma soprattutto priorità. Ricordati che tutto quello che tu non tieni qua, ma tieni qua sopra sul computer, su un pezzo di carta, da qualsiasi parte, non sono cose che ti devi ricordare che ti occupano memoria, la cosiddetta memoria RAM del nostro cervello, che deve tenere tutto lì, oddio, cosa devo fare prima, dopo, sì, ma settimana prossima, però ieri il tipo mi ha detto, fai la to-do list. Cosa devo fare oggi? Fare il bucato, pubblicare un TikTok, comprare il cibo per il cane, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti metti lì, ti fai la tua bella to-do list, quando fai l'attività, metti la spunta, e voilà, molto più facile, non ci devi pensare. Riuscirai a fare le cose in maniera più meccanica, perché non devi pensare a cosa devi fare. Sai già quello che devi fare, quindi è uno step in meno che, fidati, ti aiuta tantissimo. Step numero due, suddividi un grande progetto in piccole attività gestibili. Prendere una macroattività e suddividerla in tante altre. Ad esempio, devo pubblicare un video TikTok? Adesso, potrebbe essere una cosa rapida, tipo, prendi il telefono, registri e pubblicalo, ma ammetti che invece devo fare un video TikTok professionale, dove serve il cameraman, dobbiamo andare in una location apposta, c'è tutto uno script dietro. Insomma, dovrò suddividere questo video in tante piccole attività, perché altrimenti dico, oh, mi ci vuole una settimana organizzare sto video, è inutile che mi faccia la to-do list, se poi le attività comunque me le devo tenere in mente. E quindi le suddividiamo. Allora, dovrò prima trovare il trend del giorno, poi dovrò registrare il video, poi devo passare al computer, comunque sul telefono, inserire i sottotitoli, poi lo devo pubblicare, ma poi lo devo anche promuovere sulle altre piattaforme, quindi, mi segno tutti gli step, ripeto, se magari un video TikTok, ora ho fatto un esempio anche un po' di merda, ma ci sono attività molto più complesse che magari richiedono tante sottoattività e scomporre un problema grande, di nuovo, per il tuo cervello, è una bellissima cosa, perché non hai questo muro invalicabile, oh mio Dio, come faccio una missione impossibile, no, sono tanti piccoli gradini che devi fare e poi ti ritroverai in cima senza che manco te ne accorgi. Punto numero 3, via tutti inglesi, tutto internazionale, sfrutta la tecnologia tecnologia per rendere le attività più facili e veloci, ragazzi, minghia, chat GPT, e che facciamo? Se non nomini chat GPT in un video YouTube, non sei nessuno, ormai, anzi, scusate se non ho scritto nella copertina, come guadagnare 6.000 euro al mese con chat GPT, ormai quello è il video base che va creato, però è giusto così. Vi faccio vedere anche qualche esempio, perché il nostro amico Notion ce l'ha integrato, chat GPT, vi faccio vedere allora, prendiamo una cosettina a caso, control J, gli diciamo, guarda, brainstorming, possiamo fare, brainstorming, perché bitcoin è importante. e lei cosa si mette a fare? E ci mette a dire, guarda, ti do un po' di idee, guarda, bitcoin è importante per acquistare bene i servizi, perdere meno denaro con le banche e le commissioni, essere più anonimi, investire in una criptovaluta sicura, avere accesso alla moneta globale, minimizzare i costi, eccetera, eccetera, eccetera. Ci dà delle idee, ma io non voglio fare brainstorming, voglio utilizzare l'intelligenza artificiale per dire, ascolta, fammi, allora, ask I to write, lista pro e contro di bitcoin, e fammela tu, perché io non so bene cosa pensare, pro, bitcoin è decentralizzato, quindi ne sono una terza parte, transazioni bitcoin sono veloce economiche, però contro, è volatile, non ha garanzie, vedi, funziona, qua fa tutto lui, non devi fare niente, oppure dici, ma sai cosa, tutta sta roba qua, no, no, non ci siamo, fai una roba, fai, translate in coreano, perché lo voglio spiegare a un pubblico, c'è un pubblico un po' internazionale, fammi fare questi punti in coreano, per favore, ok, e ci siamo capiti, quindi ragazzi, ora, a parte gli scherzi, eh, intelligenza artificiale, me la dovete utilizzare, perché vi semplifica di molto la vita, non è che ci dovete lavorare, dovete per forza guadagnare 20.000 euro al mese con chat GPT, potete utilizzarla per compiti anche molto più facili. Punto numero 4, usa il blocco temporale per pianificare una giornata, costruisci una tabella nella quale dividere le varie attività della giornata, crea una tabella, ad esempio questa qui è la mia tabella personale, vedi, io ci ho tutto scadenziato, per, in quest'ora devo fare questa cosa qui, poi non è che la devo seguire al minuto, però io, durante la giornata, ho ritagliato degli spazi per tutte le attività che voglio fare, cosa che senza questa tabella mi veniva difficile, perché io mi focalizzavo solo su, no, devo fare le video YouTube oggi, e facevo magari solo quello, e ci dedicavo magari più ore di quelle che servivano, però sistemavo minchiatine, cosettine, ma su questo ci torno dopo, su questa roba del perfezionismo, ci torniamo perché è uno dei punti della lista, invece avere una tabella dove tu sai già che, in quell'ora farai più o meno quelle cose lì, di nuovo, è un svuotare il cervello, è un dover pensare e dire, ok, io so che durante la giornata, riuscirò a fare tutte queste cose che mi sono prefisso, poi ci sono delle eccezioni sicuramente, non sempre le cose si possono organizzare così, ma nella stragrande maggior parte dei casi, nella tua routine, questo ti aiuta, tra l'altro, visto che prima parlavamo di intelligenza artificiale, ti posso vedere un altro esempio, guarda, ti faccio questa roba qua, volendo, ti faccio control, dove cacchio sto fonenno, cà, control j, e ti dico, creami una tabella va, e sai Notion cosa fa? Guardala qua, sta creando lui la tabella eh, adesso, adesso ha vantaggiato, è avantaggiato perché mi sta copiando quella sotto, sta barando, però, se io glielo facessi fare in una pagina nuova, comunque me la fa eh, aspetta, aspetta, questo è però Notion, questo però è barare, questo è barare va, crea una nuova pagina, e gli diamo il comando qua, gli diamo il comando qua, così qui non può barare, vedi, tabella di ore settimanali, giorni della settimana, orario, tac, vedi, no, scendere secondi, prendi, clicchi, non devi fare niente, è tutto automatico, è tutto intelligenza artificiale, passiamo al punto numero 5, va, non smettiamo di dire cazzata, punto numero 5, voi mi direte, Marco, grazie al piffero, però, eh, te lo devo dire, te lo devo dire, evita di distrarti con i social media, o altre attività, mentre stai lavorando, scegli anche i profili giusti da seguire, cioè, questo vuol dire che, tolto non utilizzare il telefono se stai lavorando, quindi, lo metti lì, se ti serve, che ti arriva la notifica, la cosa, però cerca di non rispondere, perché magari è il tuo amico che ti fa, cosa facciamo stasera? e tu sei impegnato, sei lì, preso con la tua attività, ti distrai, poi devi ritornare col focus, sta cosa di spostare l'attenzione, è bruttissima, e comunque la vediamo anche nei punti successivi, ma, quando li utilizzi, comunque, scegli non solo pagine di intrattenimento, scegli pagine che danno informazioni, magari fatti due profili, uno personale, con cui segui gli amici, cazzeggi, guardi le pagine di trash, e l'altro con cui invece segui le cose del tuo settore, segui solamente persone che ti spostano, prendi cose che ti aiutano, e io qua ho scritto, noi ogni giorno dalle sette e mezza, l'undici e mezza, lavoriamo in diretta su Twitch, in realtà sta cosa non è proprio vera, perché l'ho fatto per un sacco di tempo, ma adesso sono un po' più restio, facevo tipo co-working, io mi mettevo lì, lavoravo, e quindi non potevo cazzeggiare, perché ero in live, e si vedeva quello che facevo, quindi per un po' è servito, però adesso l'ho tolto, perché eravamo tipo due persone in live, quindi per tenere il computer, che ruminava come non so cosa, perché faticava andare in live, ho detto, lasciamo perdere, però fatemi sapere nei commenti, se la cosa vi può interessare, un co-working, quindi un punto di stimolo, per tutti i nomadi digitali, che al mattino sono da soli a lavorare, è bello, c'è lo spazietto, ci mettiamo lì con la chat, scriviamo, facciamo, e insomma è bello, si sta tutti insieme, tutti uniti appassionatamente. Punto numero sei, non andiamo al punto numero sei, c'è anche scritto nella scaletta, sponsor, richiesta di like e condivisioni, chiedere like, iscrizione e condivisione, chiedere di utilizzare il link in descrizione, e una donazione, allora, la donazione, ve la risparmio, non c'è bisogno, però la mangio, però utilizzare il link in descrizione, se vi serve qualcosa, sotto trovate tutti i miei link affiliati, vi possono essere comodi, ma il like, l'iscrizione, e la condivisione di questo video, se vi sta piacendo, e quella ve la chiedo, e quella ve la chiedo per forza, quindi, se vi va, adesso che avete questi, un minutino così di pausa, per staccare un attimo, il click, tac, molto automatico, molto facile, molto easy, e migliora anche la produttività, la mia produttività, che almeno ho fatto questo video, per qualche motivo, e tra l'altro, vi avevo promesso, che vi avrei fatto anche la piccola marchettata, sul mio template di Notion, infatti, c'è un video intero, che dura una quantità smisurata di minuti, ma, che vi fa vedere passo passo, come io ho organizzato, e pianificato la mia vita, sia personale, che professionale, con un'applicazione, che dire comoda, e dire scomoda, è talmente comoda, che se dico comoda, è comunque scomoda, è iper comoda, è la cosa più comoda del mondo, e l'applicazione della vita, fidatevi, a me me l'ha cambiata, perché riesco a pianificare tutto, il che non vuol dire, che passo più tempo a pianificare, che a lavorare, ma vuol dire, che riesco a pianificare, in maniera intelligente, in modo da sfruttare, il tempo al meglio, ma soprattutto, rimanere, col focus, perché lì sopra, c'è la parte finanziaria, c'è la parte di obiettivi, sia giornalieri, che dell'anno, c'è la parte dei social media, dove scrivo tutto quello, che devo pubblicare, ci sono le pagine, dove condivido, con i miei collaboratori, le informazioni, ad esempio, per fare il podcast, ci sono tutti i miei progetti, quindi il progetto di Notion, la newsletter, insomma, vi consiglio di guardarvi il video, poi, se vi interessa, il template, lo potete, o copiare, liberamente, ve lo guardate, ve lo copiate voi, gratis, oppure, lo pagate, e, oltre al template, vi prendete tutto il mio corso, che vi spiega ad utilizzarlo, al meglio, e che quindi, insomma, è un piccolo investimento, ma che per tutta la vita, vi dà un vantaggio allucinante. Chiuso il momento, marchettata, torniamo a noi, e vediamo gli altri 5 punti di questa lista. Allora, punto numero 6, questo non è facile, lo so, sono consapevole, perché servono i piccioli, e la fiducia. Delega delle attività per liberare tempo, per i progetti più importanti. Sai, possibilità economica, cosa che, ad esempio, io un tempo avevo, i miei post su Instagram, erano fatti da un social media manager, ora, è arrivato il bear market, non ho più possibilità economiche, in più sono diventato massimo anista bitcoin, quindi, ancora meno sponsor, e di conseguenza, ho dovuto licenziare il mio collaboratore, siamo rimasti grandi amici, ma, purtroppo, non avevo i soldi da dargli ogni mese, per, appunto, progetti più importanti, quindi tu, delega le attività, quelle proprio, guarda, io il video, mi piace registrarlo, ma poi me lo faccio editare, io il posto, mi piace scriverlo, ma poi non so fare la grafica, e queste cose qui, è delegate, e in più, se riuscite, spendete inizialmente del tempo, per creare dei processi automatici, cioè fate in modo, che quello che voi fate, sia il più possibile, copiabile dagli altri, così, quando voi editate un video, a un certo punto, voi le potete permettere, prendete un ragazzo dalla strada, e ci dici, ascolta, ti do 50 euro, e un pugno di riso, mi fai l'editor dei video, lui non c'è esperienza, vi dice sì, voi gli passate tutto il vostro sapere, che deve essere ben messo, in maniera automatica, che per lui sia facile editare i video, come li editavate voi, e via, avete delegato un'attività, questo è molto molto importante, e qua non sono bravo neanch'io, sinceramente, non sono molto bravo, devo migliorare, o forse sono solo povero, forse sono solo povero, o forse entrambi, sono povero o non sono bravo a delegare, mi devo applicare di più su questo punto. Punto numero 7, imposta promemoria, per scadenze e riunioni importanti, questa è essenziale, segnati ogni cosa sul calendario, scadenze e reminder, svuota la testa per averla mente libera, non doverti ricordare le cose, tipo memoria, ram e hard disk, l'esempio che vi ho fatto prima, quando vi ho detto, la to do list è importante, perché voi non vi dovete ricordare le cose qua, per gli appuntamenti futuri, è ancora più importante, perché se voi avete un'attività da fare, che ne so, dopo due giorni, il pomeriggio di dopo domani, voi tutto il giorno siete lì a pensarci, cavolo, devo fare quella roba, dopo domani non mi devo dimenticare, è importantissimo di andare a prendere le medicine del gatto in farmacia, guai, oddio se mi dimentico il gatto soffre, e passa all'altro mondo, tocchiamoci però, quindi è importantissimo, ed è anche ipercomodo, capisco che sia anche banale, cioè, utilizzare il promemoria, facciamolo, facciamolo, ora, io perché ve l'ho messo qua, perché su Notion è bello, perché il promemoria si può interlacciare con tante altre cose, quindi voi create l'attività, mettete il reminder che arriva sul, la notifica sull'applicazione, che vi dice, guarda che quell'attività lì, collegata all'altra, me la devi fare, insomma, però banalmente, se no prendete il telefono, andate sul calendario, tac, scrivete, appunti, e tanti saluti, è un po' diverso dalla to-do list, qua ci mettete magari solo le cose più importanti, no? Le riunioni, le call, le cose un po' più urgenti, che siete sicuri che dovete fare esattamente in quel giorno, in quell'orario. Punto numero 9, misura la produttività, e qua, e qua te lo devo far vedere il template, perché a me no ti dimostro un attimo cosa vuol dire misurare la produttività, allora, ti vado qua sulla mia home personale, e vedi che il buon Costanza Marco qua, c'ha tutto traccia di come si sta impegnando, è disciplinato sto ragazzo, è costante, cioè si chiama Costanza per qualche motivo, e noi diciamo, guarda, wake up, cioè alzarsi presto, lo sto rispettando? 51% ok, dai, allora più o meno stai rispettando questa sana abitudine, per me sopra il 50% va bene, perché poi ci possono essere imprevisti, ci possono essere problemi, diciamo che il dato ottimo sarebbe dal 66% in su, quindi dal 66% in su per me è un dato ottimo, infatti vediamo che con le buone abitudini non sono messo così bene da inizio anno, purtroppo mi spiace, però il fatto di misurarle mi fa dire, ok, a cose che stai dedicando poco tempo, e che però ti sei segnato come obiettivo, e vorresti continuare ad ottenerlo, guarda, stai facendo tutto bene, i contenuti, stai sparando a bomba addirittura 85%, ma oggi sto registrando, quindi fatemelo aggiungere, e oggi mi sono svegliato presto, e fatemelo aggiungere, oggi ho mangiato sano, ho mangiato sano, fatemelo aggiungere, e quindi vedete che poi la tabella, pian piano che io, giorno dopo giorno, aggiungo quello che sto facendo, tiene traccia dei miei progressi, e io so esattamente dove intervenire, se devo intervenire, questo fa parte del template di Notion, se sapete come farlo, potete farlo voi, se non sapete come farlo, il corso, Marco Costanza, oppure andate su YouTube, è qualche video gratuito, in qualche modo ve lo spiegherà, voglio dire, uno utilizza o tempo o denaro, per ottenere risultato, vedete voi quale strada preferite intraprendere, passiamo all'ultimo punto, allora, punto numero, scendere un nero, e collocà, punto numero 10, non, essere un perfezionista, utilizza il famoso principio di Pareto, cosa ci diceva questo antico scrittore storico, poeta, narratore, non lo so, era uno che aveva studiato, probabilmente Pareto, l'80% dei risultati, deriva dal 20% degli sforzi, cioè, quando io devo fare questo video, cioè, le cose principali, quindi il 20%, cioè, le cose veramente basiche, sono quelle che poi danno tutto il risultato, cioè, prendere, registrare, e caricare su YouTube, se invece io mi metto nell'editing a dire, no, però aspetta, quella scritta, ok, è scritta in bianco, però magari non si legge benissimo, fammela mettere un po' più così, no, però aspetta, la metto un po' più sopra, no, fammela mettere un po' più sotto, però, sai che la color correction, quasi quasi, è da sistemare, sono d'accordo che siano delle cose molto utili, ma devono essere fatte quando ha senso, e soprattutto quando siamo in grado magari di farle anche in tempi brevi, ma se io non sono già bravo magari ad editare, e ci metto sei ore per editare il video solo perché ho voluto una certa scritta in un determinato modo, ma quella roba lì poi veramente pomperà il video così tanto, o è un'aggiunta sottile che magari mi aggiunge quel 20% di bellezza al video, dove in realtà già l'80% lo facevo con un editing base, questo è molto importante, ricordatevi che non dovete perfezionare sempre tutto, alcuni prodotti, alcuni progetti, alcuni contenuti, io so benissimo che avrei potuto farli meglio, ma magari per farlo meglio di poco, dovevo metterci un effort, quindi una fatica molto grande, e a quel punto il gioco non vale la candela, quindi producete dei buoni contenuti, cercate di puntare a degli ottimi contenuti, ma a meno che proprio la vostra caratteristica, il vostro personal brand, la vostra proprio distinzione sul mercato non sia la magnacalità e il perfezionismo puro, allora a quel punto insomma, date pure con calma, e sapete che le cose basiche, le cose proprio che fate così, in modo più facile, danno anche la maggior parte dei risultati, il resto sono piccoli dettagli che fanno bene, ma non sono essenziali. E quindi dottori, questi erano i dieci punti, vediamo se non spacco niente qua, opla, per diventare più produttivi, fatemi sapere se già li utilizzavate tutti, se li utilizzavate solo qualcuno, quale vi ha stupito, quali invece erano delle banalità, delle ciofeche che insomma probabilmente già tutti utilizziamo, però se voi me li applicate, questi ragazzi funzionano almeno, io dal mio punto di vista, e da quello che mi dice la gente che mi fa, Marco, ma come minchia fai a fare tutte queste cose? Ottimizzo, ottimizzo, cerco di non perdere tempo, cerco di incastrare tutto bene, di essere organizzato, pianificato, quando mangio magari mi guardo il video e sto studiando, quando vado a correre ascolto il podcast, ci sono tante cose per aumentare la produttività senza esagerare, cioè adesso io dico sono malato di produttività, è vero, ma non esageriamo, che poi mi andiamo in burnout, poi mi bruciamo tutti i neuroni, quindi bisogna essere organizzati, non bisogna esagerare, ma se io pianifico con cura le cose, e pianificare vuol dire e pianificare anche i momenti di svago e relax, a quel punto sto a posto, la mia vita va liscia come l'olio, poi ci saranno degli imprevisti, mi ho già pianificato tutto, quindi sposto due cose sul calendario e a posto. Dottori, grazie mille per il seguito, noi ci vediamo nei prossimi giorni, con anche dei tuoi svanti video, se ti è piaciuto, commenta, mi piace, iscriviti, dona, inviami delle foto tue, no, questa cosa potrebbe essere molto malinterpretata, non lo fare, non lo fare, stavo scherzando, non lo fare, ti prego, non sbaglio, mi accontente del like, mi accontente del like, a presto.